Siete meravigliosi, lasciatemi... Tu, anche tu! Grazie, una persona che ce lo dice, grazie, 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 grazie. Io non inquinerei con altre cose, è bella così, ermetica, grazie, grazie. Cominciamo con una domanda facile, facile per gli attori a cui però non si può rispondere il mio. In questo secondo capitolo quale personaggio vi è piaciuto di più, vi ha sorpreso di più, vi ha divertito di più? Non posso dire il mio? Io dico quello di Luigi Locascio, perché vedere Luigi Locascio fare a botte sul tetto del treno in quel modo, così, con i capelli al vento, un po' bagnati, un po' così, molto proprio, un po' fashion, infatti noi lo chiamavamo Luigi Location, perché era molto americano, ma veramente, non lo chiamavamo, c'era Location, dov'è? Io mi amico quello di Luigi, sì. A me è piaciuto tantissimo Rosario Lisma, trovo che abbia fatto un personaggio strepitoso, quello di Vittorio, l'avvocato della banda, mi è piaciuto proprio tanto, è bravissimo. Io sono affezionato a 4-5, però adesso che mi hai fatto questa domanda a Bruciapello c'è un momento del film che mi ha fatto piegare, che è quando questo qua butta di sotto la colonna. La sua reazione mentre è al volante del furgone, che si rende conto di aver fatto quel danno, è un momento piuttosto clamoroso per me. Voglio morire qui. Adesso devi parlare di me. Il grande dolore che poteva fare. Devi parlare di me adesso. Adesso devo dire Sermonti per forza. Invece dico Picchio de Rienzo, perché il modo con cui lui scompare dietro quella porta del vagone, che poi forse non è, forse, vabbè, però, no, devo dire, è un momento altissimo in cui lui scompare e poi riappare come un vero attore americano. De No Antri. A me è molto che non fa parte, diciamo, della banda, anche il buon Francesca Quaroli, il capo della polizia, è stato bravissimo in questo film, mi è piaciuto molto, devo dire. Confermo, confermo, però, insomma, diciamo che su tutti, effettivamente, l'apparizione di Locascio per me è uno dei rari casi da applauso al casting. Cioè, quando tu lo vedi, dici, no, vabbè, non è possibile, lui sembra Capitan Harlock quando arriva, capito? Questo. È difficile, a chi vuoi più bene. Allora, aspetta, due voti Locascio per ora? No, è... No, pari... Allora, siete a pari merito, tu e Locascio. No, a me, anche io, concordo con Pietro, il personaggio di Paolo. È due, è due, dai, dai. Mi fa ridere ogni cosa che fa, come si tocca gli occhiali, come mi fa ridere sempre, per cui, quello, vabbè, anche Neri Marco Re, dai, il Murena pure in se batte. Come, se potete, l'ho chiesto. O tu, tutte cose del terzo stai a dire. Vabbè, il Murena ce l'ha pure nel primo. Vabbè, se potete, l'ho chiesto al regista, se potete, va a dire. Ma io, in realtà, avrei voluto fare tutti i loro personaggi, perché sono... meravigliosi, poi tutte queste cose di azione che ci sono in questo secondo film, sono bellissime, molto divertenti, immagino, da fare. Però una delle battute più belle, secondo me, la dice Picchio quando tirano giù una colonna antica e lui, anziché preoccuparsi, dice, ma è una figata, ecco, quella battuta lì, io ho riso proprio con le lacrime. Che stupenda. Sì, ne mi piace molto l'idea della trilogia. Qual era la sfida, l'obiettivo, cosa volevi fare in questo secondo capitolo? E visto che è in mano a un fumetto, insomma, ti chiedo cosa centrano i fumetti, anche come estetica, come personaggi con questo film? Beh, diciamo che in realtà io faccio, cioè, ho collezionato fumetti praticamente per tutta l'adolescenza e sono stati il mio primo approccio con un certo tipo di narrazione. E l'ambizione, esatto, e la mia valletta ha portato delle pagine gialle da far vedere. No, in realtà l'ambizione era quella di creare, di immergere la commedia all'italiana in scene di azione, di impostazione para-americana oppure italiana degli anni 70 perché poi di fatto sono stati girati in maniera molto analogica come si girava nella tradizione poliziottesca dove l'industria italiana era tipo leader nei cappottamenti e negli inabbissamenti e negli incendi e nelle esplosioni. Poi per un po' di anni abbiamo un po' perso questa tradizione e che è poi un'operazione sincerità, cioè ho cercato di fare un film che io stesso andrei a vedere. L'ambizione è essere il primo spettatore di quello che fai. Secondo voi questo film che è così diverso da tanti che se ne vedono e anche il secondo è quello che noi non abbiamo visto come hanno rivoluzionato il cinema italiano senza nulla togliere agli altri? Qual è la vera carica di novità di questa trilogia? Aspettiamo di che esce, no? Ma di parlo di rivoluzioni, ecco, so, provo a rivoluzionare prima che esce, forse è un po' presto. Facciamo qualche complimento a questo ragazzo, insomma. E perché me ne avevo fatto solo? Diciamo evoluzione per il momento, non rivoluzione che è un po' forte. Sicuramente è un modo per spostare la commedia per tutti dalle torte in faccia e dalle scollature e dal Natale, che è una cosa che, insomma, ne avevamo fin sopra i capelli. Fare un film dove si ride, ma non è mai stupido, è abbastanza evoluzionista, rivoluzionario, forse hai ragione. Si poteva pure di. Secondo me la rivoluzione di questo film sta proprio nella scrittura, cioè la sceneggiatura. Quando arrivò la prima, ecco, io l'ho letta e disse, ecco, ok, io se lo faccio non vorrò cambiare neanche una sola battuta di quello che è scritto, perché quando è scritto in questa maniera tu da attore non proprio pretendi che non si torca un capello a ogni singola parola. E questo per me è rivoluzionario. Per me invece la cosa straordinaria e eccezionale rispetto al panorama del cinema italiano è da un punto di vista formale. Cioè girare in questo modo soprattutto una commedia è il tratto, secondo me, più originale che identifica questa operazione. E anche il fatto di averne fatti tre, nel senso che io all'inizio pensavo, ma che sommatti questi? Poi a un certo punto ormai sull'uscio della terza età, anche quando qualcuno fa una cosa che non ritengo che io farei, insomma che io non farei, ho iniziato a pensare che magari hanno una ragione loro. Per cui al di là della scrittura, secondo me, è da attore divertentissimo, perché chi l'ha fatto un film d'azione? Cioè chi si muove con dietro un muro verde? Cioè se io parlo con Fresi qui che non mi guarda è una cosa normale. Muoversi guardando degli scotch, inseguendo un treno, stando di notte in una villa meravigliosa o su sidecar sulla Cristoforo Colombo, ecco quello è un regalo per un attore. Al di là della scrittura, per me quella è la cosa più... Ma sono d'accordo comunque, sono d'accordo anche su questo. Non avevo dubbi, sei deludeur. Ok.